Marco Ghiglione, il trofeo Aragno è come sempre una vetrina, è la ciliegina su una torta, una torta fatta però di impegno, di passione, di servizio al territorio con la piscina, i delfini di Pra che sono davvero un riferimento per migliaia e migliaia di famiglie. Che 2023 sarà? Difficile sicuramente, benché abbiamo il trofeo che ci porta un sorriso in questi giorni, abbiamo un 2023 che ci aspetta difficile, purtroppo tutti i costi energetici che quest'anno andremo a sostenere sono praticamente triplicati, abbiamo un supporto, un aiuto dalle istituzioni fondamentalmente comune e regione ma ad oggi il percorso è ricco di ostacoli. Cerchiamo in ogni modo di sorpassarla e cercare in ogni modo anche con l'aiuto delle persone che vengono perché hanno subito un aumento tariffario importante dall'inizio di quest'anno, cerchiamo di superarlo. Però andiamo oltre l'ostacolo e cerchiamo di arrivare nel periodo estivo dove le utenze saranno inferiori a sorpassare e quindi anche ad avere vantaggi per il prossimo anno nella gestione energetica che ci permettono di tornare ad un pre-emergenza energia.